Un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter, buonasera dal Club di Ciron Marina, partita bellissima, 3 a 0, doppietta di Icardi, Icardi tanto criticato da noi interisti, secondo gol spettacolare, vi presento Pasquale, il presidente dell'Inter Club di Ciron Marina, detto Pep Guardiola, guarda, Inter Club, Ciron Marina e anche i membri, insomma ragazzi, abbiamo assistito a una bellissima partita, ottima Inter, secondo tempo un po' così così, allora Pasquale tu che ne pensi, cosa manca ancora a quest'Inter? Manca ancora la ciliegina che sta per arrivare, cioè? Non te lo posso dire, non lo puoi dire, tu che dici? Manca un po' di centrocabista ancora, Un buon centrocampista, con Dobbià se n'è andato, meno male, per fortuna, ragazzi Icardi, ma voi di Icardi, Icardi è molto criticato, voi cosa ne pensate? Icardi? Icardi è una potenza, è il numero uno Icardi, cioè ragazzi ha fatto, mister 30 gol, cioè ha fatto il secondo gol, che se lo faceva Iguain, 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 cioè ha fatto un euro gol, alla faccia di chi lo critica, vero? Poi, che andremo male, che andremo, per me, andremo a cogerci putti, secondo me, non va bene, poi, ottimo Nagatomo, ragazzi, no, ha subito 5 tunnel a Nagatomo, ragazzi, ma lui si può fare un tunnel sapendo che poi va a recuperare la parte, Ha giocato, lo fa apposto, per poi recuperare la parte, essendo di pari-centro passo, si gira e lui ha la palla là, è sempre pronto, tipo Messi, tipo Messi, ragazzi, ottimo Skriniar, secondo me, attualmente, il vero top player è lui, Skriniar, cioè Skriniar mi ricordo molto Samuel, un'altra cosa, calciomercato, Canzello, è un passo, no, è un passo, domani arriva Canzello, cioè è un passo, diciamo, domani a Milano, quando abbiamo, sono andato, non vedevamo l'ora, finalmente, Dalbert, lo vediamo contro la Roma, purtroppo ha dovuto togliere Borca Valero, perché aveva preso la botta al ginocchio, altrimenti avremmo visto pure il nuovo acquisto, Mario Inter, e ci vediamo sabato, allora, per un'altra intervista, certo, certo, ma arrivederci a tutti, allora, ragazzi, ricordatevi, Inter 3, Fiorentina 0, Babacar, ciao Babacar, ragazzi, ricordatevi, iscrivetevi a Mario Inter, ciao!